Torna a San Marco d'Alunzio l'appuntamento con la musica di altissima qualità. Per la quarta stagione l'associazione Ars Vita Est ripropone l'appreciatissima Kermes di Borgo in Musica, un vero e proprio laboratorio per giovani talenti. Come ormai da tradizione, Borgo in Musica propone un ricco programma di concerti, campus, masterclass, laboratori ed eventi musicali che concentreranno a San Marco grandi artisti e docenti a livello nazionale e internazionale. Sabato 27 sarà la volta del concerto masterclass di corno e trombone, poi il 7 agosto l'ensemble di ottoni, il 24 agosto i clarinetti, il 29 il concerto di sassofano, mentre il 30 agosto toccherà la San Marco Wind Band. Quest'anno saranno otto concerti, il concerto principale sarà quello del 30 settembre con l'orchestra di Fiati di Riggo, la San Marco Wind Band, che avrà l'onore di suonare con alcuni dei maestri che hanno fatto le masterclass. Oltre a questo c'è la locandina corsi, quindi ci saranno altrettanto corsi che sono, come sapete, gestiti da maestri di fama nazionale e internazionale. Non solo eventi e concerti dunque, Borgo in Musica con le sue masterclass e i suoi corsi rappresenta una straordinaria occasione di qualificazione per i giovani talenti musicisti del comprensorio nebroideo. Ed è una possibilità che hanno veramente molto bella, perché non si verifica spesso. Questo posto veramente è molto fortunato, perché abbiamo tanti ragazzi che hanno tanta... La materia prima qui è ricca. Ci sono tanti ragazzi che hanno bisogno di tanto talento, però che hanno bisogno di fare, di approfondire con questi insegnanti. Già, il fatto stesso che adesso questi master si fanno qua è un modo per portare ai ragazzi una ventata di area nuova. E rendiamo chiaro che l'investimento in Borgo in Musica è importante per il Comune di San Marco d'Alunzio e l'obiettivo finale sul settore musica è quello di creare magari in futuro un'orchestra, perché il livello è molto alto già, del futuro teatro dei Normanni di cui si sta discutendo adesso nell'amministrazione, quindi il futuro teatro che nascerà nella piazza principale del castello. Ecco, una volta.